Siete ripartiti a sprombattuto in questo 2010, due gare e due vittorie. Sì, sei punti, ad essere sincero ora il giorno di ritorno bisogna pedalare. Diciamo che come siamo partiti all'andata con cinque partite e cinque punti abbiamo preso un andamento diverso. Per ora ne abbiamo fatte sei in due e quindi speriamo di continuare così. Un piano tallazzo che comunque vi ha dato il filo a torcia fino alla fine, finché non c'è stata l'espulsione di Malavenda mi sembra. Sì, come sapevamo loro anche l'andata avevano fatto benissimo, è una squadra che gioca bene. Poi su un campo che è sincero era proprio poco praticabile oggi. Noi palla a terra riuscivamo a giocare poco, quindi loro palla lunga con delle punte rapide riuscivano ad andare in profondità. Però alla fine provandoci sempre siamo riusciti a fare gol e siamo andati in vantaggio. Avete creduto fino alla fine appunto in questa vittoria, Daniello? Sì, all'andata mi sa che erano loro che oltre a un gol regalato fecero gol al 94esimo e si porteranno a casa la vittoria. Oggi abbiamo fatto noi, quindi abbiamo restituito quello dell'andata. Per quanto riguarda la gara, a primo tempo avete chiuso, diciamo anche avreste meritato il gol e la ripresa più equilibrata la gara è stata. Sì, non dimentichiamo che abbiamo giocato mercoledì, quindi le forze in pratica non erano ottimali. Però siamo andati in campo il secondo tempo cercando di fare gol, aiutati anche dall'espulsione loro. Qualcuno, qualche partita ha detto che quando il Giuglanova, la San Mettese è stata espulsa ieri, era andata in difficoltà. Noi invece con l'espulsione loro siamo riusciti a vincere la partita, quindi va bene così.